PULIAMO IL BUIO Speriamo che ci sia molta affluenza di persone Il pantalone che l'hai ricavato da una tuta di quelle è uguale E io oggi non faccio niente Registrano Registri io oggi non faccio niente Ha cominciato subito a buttarsi avanti per non cadere dietro Io l'ho detto sin dall'inizio E' il primo che si butta Sergio che ha le chiavi dell'ascensore Ma è più pittoresco a scendere? No aspetta Alessandra Da dove scendiamo? Dalle scale Dalle scale Dalle scale Cos'è tried And I tried And I tried And I tried Stai trovando qualcosa? Sì Barattoli Aspetta Assaggiamo così Stai fermo Sì però fai vedere Ecco prendi le mani Barattolo Perfetto Fermo Le mani Mi lancio Chi c'è? C'è le bocche Ma è originale però Sì Ci avremmo fatto il taglio Che avete trovato? Eh la Bacchieri Cosa è elettrica? Trova Lascia stare Poi sono per i pari È molto interessante Stemma Bacchieri Il botte Buongiorno Il bot't風 Dù Sì Su! Su! Comincia a infilarci, devo prendere anche la dimensione a questo punto. Sì! 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 C'è! Vorrei, vorrei in quasi notare, pure il mal di cuore! Vado in fondo! Cosa c'è? E' una giornata a livello nazionale, in cui i teleologi cercano di unire porta a porta che sia la storia naturale, la storia artificiale, perché noi siamo qua a prelevare qualche cosina e abbiamo accorto liberi, euro, e non è vero! E che c'è nel pacchetto? Quello nerd! Appa che faccio con la saloncina per il pacchetto! Wow, chi te la vuoi? Che ha fatto il tuo solde? Che ha fatto soldi? A lire, 50 lire, ok? Che c'è? I've been around for a long, long year So many a man's soul and faith I was around with Jesus Christ Had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot Washed his hands and sealed his face Pleased to meet you Hope you guessed my name But what puzzling you is the nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for change Killed the saw and administered Anastasia Screamed to me I rode a tank Held a generous rank When the blitzkrieg raged And the body stank Pleased to meet you Hope you guessed my name Oh yeah Oh yeah I was first saying you is the nature of my game Oh yeah But we're talking about the fishing But we're talking about the impact We're talking about the fish We're talking about the fish No, hai qualcosa, dai una bollimora, l'ho scattato il disco. Pieritta, com'è andata questa giornata? Avevo recuperato un bel po' di roba anche storica, flash di macchinetta storica, cassetta e stagno, ferri, tantissima roba. Get down there! Stai facendo questo filmato, stai facendo tre ore di filmato, no? Stai facendo tre ore di filmato, ma chi cazzo se lo vedrà mai sto filmato?